Cesare Memoli, grazie per essere venuto, non manca dal suo impegno un uomo di destra, è nato nella destra, una continuità molto responsabile che direi che merita anche un certo premio, perché tu non sei passato nel destra, sinistra, nel quarto, non so, ci tengo alla mia coerenza. Ovviamente si ricandida sempre per la destra, per il nuovo Consiglio Comunale del 6-7 maio, parliamo del Consiglio Comunale di Brindisi. Ecco, nei contri precedenti abbiamo affrontato le tematiche che un po' avvolgeva il mondo politico in generale, ma anche la destra, primaria e no, primaria sì, poi tutto si è acclarato. Nel momento in cui il partito e chi ne regge le sorti, in questo caso l'onorevole Vitali che è stato riconfermato segretario provinciale del PDL, ha deciso che le primarie non si dovessero tenere, Nuova Italia, la componente che io rappresento in provincia di Brindisi, ha ritenuto con altri suoi esponenti di non partecipare alla campagna elettorale direttamente, mentre invece io in linea di continuità con quella che è stata la mia azione amministrativa negli ultimi 20 anni, ho fatto presente agli amici che non avrei rinunciato alla candidatura, la componente di Nuova Italia non avrà altri esponenti candidati, hanno scelto tutti di rimanere fermi, una sorta di contestazione per come è stato gestito, assolutamente sì, io sono il coordinatore provinciale, ma qual è la differenza? Volevo sapere, io non sapevo che Massimo Ciullo non è candidato. Massimo Ciullo non si candida, l'amico Silvio Faldetta non si candida, io ho scelto di farlo perché non mi sembrava il caso di non dare anche questa volta il mio contributo alla causa del centro-destra, con l'augurio che saremo nuovamente noi a governare Palazzo di Città, ma anche nell'ipotesi in cui si dovesse andare all'opposizione, ipotesi alla quale io non credo, essendo fermamente convinto dalla vittoria, ma comunque il centro-destra non ritengo si possa privare della mia esperienza né io voglio rimanere fermo un giro. Quali sono le motivazioni dall'altra parte? La contestazione per una sorta di niego che c'è stato intanto alla richiesta che noi avevamo fatto di tenere elezioni primarie di partito, di componente, di coalizione, poco importa, ma che avrebbero consentito, lecce lo insegna, 17 mila persone si sono messe in fila per andare a scegliere il loro candidato sindaco e badate bene, lì c'era un sindaco uscente, Paolo Perrone, che aveva ben meritato di essere ricandidato, ma che è stato al gioco che ha accettato la sfida, furbescamente devo dire, perché poi nel momento in cui i risultati sono venuti fuori, ovviamente Paolo Perrone, al quale va il mio in bocca al lupo, essendo tra l'altro io quasi cittadino onorario di lecce, visto che tutti i giorni mi reco nel capoluogo per andare a lavorare, ma comunque da sindaco uscente si mette in gioco, 17 mila persone vanno a votare, alla sinistra è venuto un attacco di panico, hanno già perso le elezioni da quello che è il mio punto di vista, noi a Brindisi avremmo potuto replicare tranquillamente questa bella vittoria, questo bell'anticipo di campagna elettorale, così non è stato, per me la polemica è finita il giorno dopo, io sono candidato, adesso abbiamo un candidato sindaco che è Mauro Dattis, che ha ben meritato perché io, lui, gli altri colleghi abbiamo affiancato Mimmo Mennitti per quasi 8 anni, lo abbiamo sostituito nei momenti in cui ha avuto problemi che i nostri concittadini conoscono, problemi di salute che poi lo hanno portato a dimettersi, a far interrompere in maniera anticipata la gestione di Palazzo di Città, noi vogliamo ritornare a Palazzo di Città nel segno della continuità per continuare le cose che sono in essere, per far partire quelle che erano al traguardo e che di fatto partiranno chiunque vada a governare Palazzo di Città, ma noi vorremmo essere noi a metterci il cappello, non peraltro per il giusto merito di averle preparate e poi per tante altre cose nuove che abbiamo in cantiere, tante idee, con una velocità che vogliamo imprimere, tant'è che una delle liste che affiancano il PDL che fa la parte grossa della coalizione si chiama Brindisi Avanti Veloce, per cui proprio a questo termine quasi futurista marinettiano, io con il Popolo della Libertà perché sono iscritto, tesserato, non cambio. Cesare, tu hai detto quella che si è fatta ma quella che è già pronto, no? E che bisogna subito partire. Sono partiti i lavori sul lungomare, sta per partire invece via del mare, a giorni si inaugura il sottopasso ferroviario che consentirà di abbreviare la distanza tra la città e il porto, la città che ha voltato le spalle al mare allontanandosene è stata la grande tragedia di Brindisi perché abbiamo rinunciato a quella che era la nostra vocazione naturale, abbiamo fatto nascere quartieri ghetto, quartieri dormitorio dove si va solo a dormire la sera, quindi slegati dal contesto urbano. Non solo quindi il sottopassaggio di via Torpisana a Piazza Crispi consentirà di unire la commenda al centro, ma a breve saranno eliminati ulteriori fasci di binari, il muro che è stato volutamente scelto per essere un muro fatto come le costruzioni Lego, che si può smontare e rimontare in qualsiasi momento sarà ulteriormente arretrato, per cui la distanza sarà ancora minore, gli spazi aumenteranno, si potranno creare ulteriori parcheggi in prossimità del centro abitato che poi è la grande polemica di tutti questi anni, corsi aperti, corsi chiusi, ma se i corsi sono chiusi dove parcheggiamo le auto? Un altro dei problemi ancora irrisolti. Corsi aperti, corsi chiusi. Io ho sempre detto che i corsi chiusi, che ne dicono i miei amici commercianti, sono comunque una conquista di civiltà. Non ho mai visto nessuno arrivare con la macchina in un negozio, acquistare attraverso il finestrino e andare via, ho visto gente che in uno spazio libero dalle auto passeggia, non respira smog, si siede in un tavolino e consuma un caffè o un gelato o un aperitivo e che poi a tempo e modo di guardare le vetrine se passeggia, se passa in macchina non vede niente. Il vero problema è che esistono a Brindisi purtroppo una serie di proprietari di quei negozi che chiedono fitti altissimi e che a causa di questi fitti, a causa del calo delle vendite dovuto alla mancanza di parcheggi, per cui la gente anche volendo parcheggiare non riesce ad arrivare al corso. Una prima risposta fu il parcheggio di Via del Mare, comodissimo, arrivi lì con un euro la macchina rimane 5-6 ore ed è anche vigilata perché ci sono due sbarre all'ingresso e all'uscita, ma è solo un primo passo, ce ne vorrebbero un altro o altri ancora, comunque nel momento in cui alla gente dà la possibilità di parcheggiare scendi al centro, parcheggia e magari spendi a Brindisi anziché andare in un centro commerciale che è anonimo, dove non c'è nessun legame, dove non puoi neanche stabilire un rapporto di amicizia con il proprietario della boutique che ti fa indossare 100 capi perché lì tutto è anonimo, tutto è standardizzato, tu vai, acquisti, vai la cassa, paghi e te ne vai. Sembrano diventati i corsi principali, i due centri commerciali che abbiamo qui, quelli più vicini, noi dobbiamo ritornare a rendere il centro commerciale e il centro storico della città, ci riusciremo nel momento in cui avremo appunto abbreviato la distanza dal centro, avremo dato la possibilità non solo ai Brindisini, cominciamo dai Brindisini, ma anche a chi viene da fuori di poter arrivare e lasciare l'auto in maniera tranquilla senza l'assillo della multa o del carroattrezzi, vigili e chi le rimuove fanno il loro dovere, però noi dobbiamo dare la possibilità di parcheggiare correttamente, i vigili faranno altro, la gente non si beccherà una multa al giorno per cui ritornerà tranquillamente al centro. Riaprire i corsi non risolverebbe il problema perché non sono carrabili, si deteriorerebbero immediatamente, andrebbero immediatamente chiusi e lì davvero poi scatterebbero lavori interminabili, la grande aberrazione è asfaltarli, dopo aver speso milioni di euro per mettere il basolato, passarci sopra l'asfalto diventerebbero come una normale via cittadina e i corsi perderebbero il loro fascino che invece tanto piace a chi arriva in città e non è brindisino, tutti mi dicono avete dei corsi bellissimi, peccato che ci siano troppi negozi vuoti, allora ai proprietari di negozi che hanno fitti altissimi noi dobbiamo dare l'incentivo con le buone o con le cattive, come diceva la buonanima di mia nonna, per poterli affittare, per doverli affittare, gli diamo un incentivo al commerciante per pagarli e potremmo aumentare le tasse a chi tiene i negozi sfitti, perché potrebbe diventare antieconomico, uno non può dire o lo affitto 4 mila euro al mese o lo tengo chiuso o 2 mila non mi bastano, se hai 2 mila che perdi, poi sommi, i 2 mila di tasse che ti mettiamo se tu tieni un negozio in maniera scandalosamente chiusa, sporco, non manutenuto sul corso principale della città, allora a quel punto diventa conveniente dare le chiavi a qualcuno anche gratis, non dobbiamo arrivare a questo, chi ha una proprietà è bene che ne usufruisca perché poi ci paga anche tasse, sono soldi che escono dalle tasche, noi dobbiamo fare in modo che tutti ci mettano qualcosa di loro per rendere questa città sempre più bella, sempre più vivibile, sembra facile a parole, con i fatti lo è molto meno, però noi siamo impegnati, qualcosa abbiamo cercato di fare nel corso di questi anni, vogliamo continuare. Il centro storico lo lasciamo così com'è? Secondo me il centro storico va lasciato così com'è, vanno individuate altre aree di parcheggio, il problema di Brindisi che è come Roma, ovunque scavi salta fuori quello che i nostri progenitori hanno costruito, l'ideale sarebbero i parcheggi sotterranei, andrebbero fatti dei sondaggi individuati delle aree dove non ci sono dei reperti storico-archeologici o almeno che non ve ne sono di importanza tale da dover poi interrompere i lavori, un parcheggio che consenta di arrivare sotto la città con un ascensore che ti riporta su di uno o due piani sarebbe l'ideale, non vedremmo tutte queste auto in giro, uno arriverebbe lì, lascierebbe la macchina e sarebbe libero di girare quanto riguarda. Un discorso fantascientifico, è bello. Beh no, queste cose si fanno con l'ausilio dei privati perché ormai gli enti pubblici fondi a disposizione non ne hanno, anche se anni fa il problema del traffico riguardava tutte le città della penisola, dello stivale da nord a sud, per cui c'erano anche cospicui finanziamenti. Noi potremmo individuare forme di finanziamento, forme miste pubblico-privato, dare in gestione ai privati per un certo numero di anni e realizzare finalmente i parcheggi. Quello è il problema cardine, fatti quelli il centro ritornerebbe a vivere. Senti, e le periferie? Le periferie vanno attenzionate, vanno manutenute, devono essere curate anche da chi ci abita perché non è possibile recuperare una periferia andando a creare un giardino con una fontana e poi vedere chi abita lì, non chi arriva da lontano, ma chi abita lì che compie atti di vandalismo, rende inutilizzabile quello che è costato tanti soldi di tutti, dell'intera comunità. Perché poi un conto è trovare una somma X per realizzare un'opera, diventa molto, ma molto più difficile. Trovare poi i soldi per la manutenzione ordinaria che comunque va fatta perché i beni vanno preservati, ma soprattutto straordinaria. Per straordinario intendo che se io realizza un'opera e dopo una settimana, un mese o cinque mesi qualcuno la vandalizza, sarà problematico ristrutturarla. Perché a Brindisi purtroppo c'è questa cattiva abitudine di pensare che quello che non è di tua proprietà non è di nessuno, non è tuo comunque. E quindi alla fine tu assisti a scene incredibili, una volta c'erano le cabine telefoniche che puntualmente non funzionavano perché qualcuno le rompeva, le fioriere in mezzo a corsi dove chi è meno vandalo si limita a estirpare le piantine per portarsela a casa, costano un euro. Faremmo prima regalargliele, è più il danno che fanno. A chi invece prende il vaso e lo butta a testa in giù perché probabilmente non gli piace il corso ordinato, non gli piace passeggiare in un ambiente. Ma la gente purtroppo è fatta così. Bisogna cominciare dalle scuole, noi lo abbiamo fatto, tu ricorderai che io ho fatto l'assessore servizi sociali, noi abbiamo cooperative sociali che lavorano davvero molto bene all'interno delle scuole con percorsi di cittadinanza attiva. Ci abbiamo provato nuovamente in questi due anni e mezzo in cui ho ricoperto la delega di assessore all'ecologia e all'igiene urbana, per cui mentre andavi nelle scuole a parlare ai bambini della tutela delle aree boschive, della tutela delle spiagge, della tutela dell'ambiente in generale, del non inquinare per conservare l'aria, l'acqua che respiriamo e che beviamo, contemporaneamente andavi a parlare di raccolta differenziata, di rifiuti, proprio per creare oggi i futuri cittadini modello di domani. Se Brindisi ha avuto nel passato un bubone che ha fatto sì che una larga fascia di popolazione fosse abituata a ritenere di poter spadroneggiare, perché quello che non era all'interno dell'uscio di casa si poteva tranquillamente prendere, rompere e depredare, oggi così non è, tutto questo fenomeno va man mano a scemare, i figli, i nipoti diventano cittadini modello e questa diventerà, lo è già in parte, deve perfezionarsi, una città all'altezza con le più grandi città d'Italia e non solo. Hai pronunciato la parola spiaggia, Torre Quaceto, Brindisi, una distanza che dall'Adriatico Emiliano si utilizza come una grande riviera, e quale la Falesia sta facendo da padrone? Ma guarda, sulla Falesia la regione deve ancora esprimersi, la competenza è regionale, se non si approva il piano regionale delle coste non è possibile neanche dare la possibilità a quei privati che pure chiedono di farlo con fondi propri di poter realizzare delle opere di contenimento. La verità è che noi non abbiamo una costa solida, sono strati argillosi, sedimenti nel corso del secolo, che si sono sedimentati appunto nel corso dei secoli, noi vediamo l'effetto degli ultimi 20-30 anni, ma nel corso di centinaia e migliaia di anni la morfologia del territorio cambia, ovviamente noi la avvertiamo in maniera maggiore perché abbiamo il nostro angolo di visuale, abbiamo reso la costa piena di strutture fisse, per cui se la costa è allo stato naturale, tu non te ne accorgi nemmeno se in un punto la natura dà e ti aggiunge 10 metri di sabbia e se in un punto la natura toglie e ti toglie 5 metri di Falesia, di bassa Falesia. Là dove invece ci sono lidi balneari che sono vere e proprie fabbriche del divertimento estivo, che stanno lì da anni con cemento, ferro e legno, là dove ci sono abitazioni che ahimè si è consentito che fossero costruite a pochi metri dalla spiaggia, ti rendi conto di quello che la natura toglie perché la casa rischia di finire in acqua e di scomparire. Diventa difficile intervenire, io ho parlato con i geologi perché poi per una parte le competenze oltre ad essere del collega che si occupava di urbanistica erano anche mie, però ci dicono che o l'intera costa viene manutenuta oppure non ha senso fare degli interventi tampone perché si devia il flusso dalle correnti e quello che potrebbe sembrare un rimedio rischia di essere una cura peggiore ancora del male, nel senso che salviamo 20 metri di costa e ne condanniamo a morte definitivamente altrimenti da un'altra parte. Vanno fatti piccoli interventi, abbassare la Falesia, farla a gradini, fare delle opere di contenimento che non siano invasive dal punto di vista ambientale, ci sono i tecnici, io tecnico non sono, io sono politico, devo dare l'input e devo controllare che le cose vengano fatte, questo è il compito della politica. Noi vogliamo anche intervenire su questo aspetto, stiamo facendo pressioni e di qualche giorno fa il grido del candidato sindaco Dattis alla regione ha approvato il piano regionale della costa perché altrimenti siamo bloccati anche noi, siamo alla fine di marzo, la stagione estiva si avvicina, tra un po' ci ritroveremo con il problema della costa impraticabile, di pochi stabilimenti balneari che possono funzionare e noi non vogliamo che questo succeda. C'è stato un anno di tempo, la regione non ha detto nulla da questo punto di vista. Avrebbero potuto dare un'accelerata, possono ancora dare un'accelerata. Per quello che è di nostra competenza, io sono contento e ne voglio approfittare per ringraziare pubblicamente il commissario prefettizio e il dottore Pezzuto perché ha continuato, non limitandosi all'ordinaria amministrazione che è cosa che in genere un commissario prefettizio fa, non limitandosi all'ordinaria amministrazione ma perseguendo atti amministrativi che noi avevamo già in qualche modo confezionato e portandoli avanti dal ciclo dei rifiuti alla gara per l'affidamento dell'impianto di CDR fino alla bonifica di interi tratti di territorio che consentimelo con una punta di orgoglio e sono una mia realizzazione perché su questo con l'ufficio ecologia del comune abbiamo lavorato per mesi, sta per essere scelta la ditta che dovrà bonificare l'intero tratto di costa dove ci sono quelle batterie militari in prossimità del Lido Granchio Rosso che sicuramente tu conosci, da Torre Testa a Punta del Serrone, lì per anni si sono scaricate tonnellate di rifiuti anche pericolosi e mi riferisco all'amianto. Quella zona sarà completamente bonificata, recintata affinché nessuno ne faccia più un uso improprio diventerà un parco. Subito dopo sarà fatta anche la gara per sbitri dove riuscì a togliere l'amianto e quindi a mettere in sicurezza, però mancavano altri soldi che abbiamo recuperato e che abbiamo messo accanto ai residui di quella gara dove avevamo risparmiato un sacco di soldi. Grazie a Dio abbiamo fatto le cose e abbiamo anche speso poco e quindi anche i sbitri saranno eliminate tutte le macerie. Come vedi i suggerimenti e gli inviti che vengono da alcune forze politiche al pezzuto di non prendere iniziative importanti e lasciarle al pezzuto? Dipende, in questo caso legge e logica. La legge dice che il commissario straordinario di un comune, di un ente pubblico, racchiude in sé i poteri del sindaco, della giunta e del Consiglio Comunale. Per cui là dove c'erano 40 consiglieri comunali, 10 assessori e un sindaco, basta una sola persona, coadiuvato da uno o due collaboratori, a sua scelta per prendere intere decisioni. E questa è la norma, questa è la legge. La città non si può fermare, ci sono cose che vanno fatte, atti amministrativi che è bene che continuino. Poi c'è anche la logica. Nel momento in cui c'è qualcosa che non è una scadenza fissa, che non è qualcosa di irreparabile, se il commissario si rende conto che è giusto che sia la politica a scegliere e che quindi voglia soprassedere, mi riferisco perché così non parliamo per perifrasi, ma mi riferisco alla polemica che c'è stata sul ruolo dei revisori dei conti che sono in scadenza e si paventava l'ipotesi che il commissario Pezzuto li nominasse, qualcuno dice aspettiamo che sia la politica a farlo. In questo caso io dico che si può anche tranquillamente aspettare. Non so se la legge consente una proroga ma non dovrebbe essere un problema, ritengo risì. Per cui si può temporeggiare e aspettare che poi sia l'amministrazione subentrante a scegliere i revisori che poi hanno un mandato di tre anni, per cui che a scegliere in questo caso sia un commissario che va via tra due mesi potrebbe anche apparire una ulteriore forzatura. Quindi quello che dice la legge è quello che dice la logica. In questo caso la logica suggerirebbe al commissario Pezzuto di aspettare. Quali sono le tue previsioni? Tu parli con la gente, centipedestrate? Io parlo con la gente, sono soddisfatti di quello che ha fatto il centrodestra, hanno notato una certa rilassatezza nel compiere le cose, ma noi abbiamo detto e ripetuto, abbiamo spiegato quali erano i motivi di questa calma. Noi venivamo fuori da una gestione straordinaria, era successo al comune di Brinsi qualcosa che non accade tutti i giorni in un'amministrazione comunale, per cui abbiamo dovuto raccogliere quello che c'era, macerie, abbiamo dovuto ridare dignità alla macchina burocratica, all'immagine della città, ai conti, metterli in regola, fare una politica di contenimento della spesa, noi abbiamo fatto scelte oculate, spese oculate e poi passare alla gestione ordinaria. Le cose si sono fatte, l'elenco sarebbe molto lungo da fare, ho invitato il candidato sindaco a realizzare una piccola pubblicazione di tutte le cose che noi siamo riusciti a fare in questi quasi otto anni. Oggi, lo dicevo prima, uno degli aspetti che devono caratterizzare il centrodestra, se come io immagino e spero sarà vittorioso nella campagna elettorale che finirà tra poco più di un mese, sarà quello della velocità, imprimere a tutte le cose che noi abbiamo fatto un'accelerata. Prima non potevamo correre, perché avremmo dato l'impressione di una frenesia che invece non ci apparteneva e che è appartenuta ad altri. Quando a Brindisi si dice, sì ma sono state fatte tante cose anche in passato, poi abbiamo scoperto che dietro ogni cosa c'era un interesse grande o piccolo, ma c'era. Noi non avevamo nessun interesse, l'unico interesse era quello nei confronti della città e dei cittadini. Abbiamo fatto le cose e come andavano fatte, riteniamone averle fatte bene, lo dico perché anche questo è motivo di orgoglio, in otto anni un'amministrazione che ha avuto lo stesso sindaco e per la gran parte gli stessi amministratori non è stata sfiorata da nessun sospetto. Nessuno di noi è mai stato chiamato a dover rispondere di qualcosa e un fiore all'occhiello che ci portiamo e che vogliamo portarci anche per il futuro. Preferiamo amministrare bene piuttosto che fare altro. È un atto di amore nei confronti della città e dei cittadini. Diciamo che sono egoista e che lo faccio per mio figlio, perché ho scelto di farlo nascere qui, ho scelto di farlo vivere qui, spero che non se ne vada mai. Io sono orgoglioso di essere di Brindisi e voglio che anche mio figlio lo sia. Per cui tutto quello che faccio lo faccio per lui, lo faccio per i tanti bambini, lo faccio per i miei concittadini. Quindi mi sforzo di farlo bene. Come me, anche gli altri colleghi possono accusarci di tutto, ma non di non avere avuto amore e di non averci messo correttezza e lealtà nelle cose che abbiamo fatto. È un politico di razza, di una continuità eccezionale e speriamo bene, vero? Speriamo bene. In questi casi si dice, in bocca al lupo, crepi il lupo, anche se è un animale che mi è molto simpatico e mi è caro, perché fa vita comunitaria, sa vivere in gruppo, ma in questo caso prendiamo per buono lo scongiuro. Un cordiale saluto. Grazie Tonino.